la nuova statale 106 che continua a rimanere in tilt andiamo a capire che cosa è accaduto è stato chiuso lo svincolo della nuova 106 ingresso nord lato caolonia qual è il motivo la pavimentazione della galleria che attraversa il centro abitato di roccella ionica è completamente saltata dunque si è creato un avvallamento terreno franoso tutto bloccato un tratto importante che riesce a bypassare l'intero centro abitato di roccella che in questi giorni di traffico si vede completamente in tasato abbiamo chiesto all'ingegnere dell'anas il perché e quanti saranno i tempi del ripristino del manto stradale all'interno della galleria abbiamo avuto delle deformazioni anomali in galleria che stiamo ripristinando diciamo con la realizzazione di un puntone nella fondazione della galleria è una galleria immersa in un terreno abbastanza difficile però diciamo siamo in dirittura d'arrivo con l'intervento quindi i tempi saranno brevi i tempi saranno brevi sì assolutamente rimaniamo comunque dubbiosi dei tempi dell'anas non siamo mai assolutamente certi in ogni caso un periodo incredibile perché al danno si è giunta la beffa a roccella qualcuno ha deciso che bisognava rifare l'asfalto qual è il periodo prescelto proprio questo il periodo pre natalizio paese in tasato nuova 106 bloccata questi sono i risultati protestano i commercianti protestano i cittadini protestano gli imprenditori addirittura le aziende di trasporto che non riescono più a garantire più passaggi dal centro abitato insomma un vero e proprio caos responsabilità di chi che ancora non è dato saperlo